buongiorno eccoci qua per presentarvi un grazioso monolocale ideale per investimento siamo a feggino quindi vicino a rivarola e a campi quindi ci sono un sacco di aziende quindi ideale per investimento anche per la vicinanza con la caserma di bolzanetto fisseramenti di ottima qualità riscaldamento autonomo qui siamo sopra la via poi volendo abbiamo anche la possibilità sotto grande come l'appartamento abbiamo un bel magazzino che si potrebbe anche un domani trasformare in box questa era la classica casa bottega di una volta quindi qui abbiamo questo monolocale che oggigiorno c'è la possibilità di fare dei letti armadio che scendono giù piuttosto che cose girevoli insomma ci si può sbizzarrire con l'arredamento per renderlo molto sfruttabile adesso è diviso così ok qui c'è la parte cottura la sua caldaia con per i caloriferi acqua calda anche qui un ottimo serramento triplo vetro persiane in alluminio qui un po giolino vediamo l'esposizione veramente un ottimo investimento perché comodissimo zona tranquilla poi qui c'è il bagno con box doccia bidet completo di tutto la casa potrebbe dare un'ottima resa basta dare un'imbiancata magari mettere un arredo un po più funzionale e diciamo che si può affittare immediatamente se no anche per chi magari lavora in zona qui a campi sono un sacco di aziende è un appoggio tranquillamente comodo e veramente economico trovate tutte le informazioni sul nostro sito con i dettagli planimetrie quant'altro a presto